Buongiorno e benvenuti. Siamo negli uffici del Parlamento Europeo, ma non né a Strasburgo né a Bruxelles, bensì a Milano, perché tanta gente, magari mi fanno e mi dicono, ma tu sei quello che va ogni tanto al Parlamento Europeo a intervistare i parlamentari, sì, ma non è vero che c'è una sede a Milano del Parlamento Europeo, invece c'è e noi siamo qua in compagnia di Maurizio Molinari, che è il direttore di questa sede, giusto Maurizio? Sì, sono il responsabile dell'ufficio di Milano del Parlamento Europeo e come giustamente diceva Paolo, il Parlamento Europeo ha la sua sede ufficiale Strasburgo, la sua principale sede di lavoro è Bruxelles, ma poi ha uffici sparsi in tutta Europa. Quindi per esempio in Italia c'è l'ufficio principale del Parlamento Europeo che è a Roma e poi c'è quella che noi chiamiamo Antenna, quindi un ufficio regionale che è l'ufficio di Milano. Che però tanto regionale non è perché afferiscono all'ufficio di Milano i deputati del Nord Italia, Nord-Est e Nord-Ovest, parliamo di quasi la metà dei 76 eurodeputati italiani. Ecco appunto, allora questi uffici che sono qua a Milano, a chi si rivolgono? Cioè la gente che cosa può venire a fare al Parlamento Europeo o a chiedere, far domande? Ci spieghi un po'. L'ufficio di Milano è in primo luogo come tutti gli uffici del Parlamento Europeo, come il network, la rete degli Europe Direct, che sono i centri di informazione sull'Unione Europea sparsi sul territorio italiano, ce ne sono oltre 40. E' il primo punto di contatto con i cittadini, quindi noi riceviamo quotidianamente domande da parte dei cittadini che chiedono informazioni sull'Unione Europea, sul Parlamento Europeo. Poi noi ci rivolgiamo ai deputati, quindi siamo al servizio dei deputati che vengono qui, organizzano le loro attività o noi organizziamo attività in cui li coinvolgiamo. Abbiamo una saletta da 50-60 posti dove facciamo degli eventi o dove l'eurodeputato, se vuole, può organizzare degli eventi. Ma poi soprattutto noi ci rivolgiamo a cittadini, imprese, associazioni, giornalisti, giovani, studenti, scuole, università, un po' tutto quello che è il territorio e organizziamo dei momenti di confronto delle iniziative e degli eventi che riguardano appunto il Parlamento Europeo e l'Unione Europea e che hanno un impatto sul territorio. Faccio solo un esempio, noi lunedì prossimo, 17 febbraio, saremo a Padova dove presenteremo gli eurodeputati della circoscrizione nord-est. Facciamo un paio d'ore in cui i deputati si presentano, dicono le loro priorità, dove lavoro, nei loro ambiti di lavoro e quindi facciamo un momento di confronto. A Milano il 9 marzo faremo un momento, un aperitivo, una serata dedicata a storie di donne, insomma in occasione della giornata della donna, il giorno dopo facciamo un aperitivo in cui raccontiamo delle storie di donne, in particolare legate al discorso dell'economia verde, le donne coinvolte nel riciclo, nel riutilizzo, nel fare impresa ma anche il discorso del divario ritributivo di genere e altre storie legate alle donne che si racconteranno e quindi anche lì creeremo un momento di confronto. Il 15 maggio per esempio faremo una grande iniziativa con il Presidente Sassoli, con il Sindaco Sala, a cui abbiamo invitato e spero parteciperà la Presidente della Commissione Europea von der Leyen probabilmente inviteremo il Presidente del Consiglio Conte sulla Green Economy, quindi la Green Economy è una delle priorità. Faremo degli eventi e delle iniziative sul bilancio pluriennale 2021-2027, che come dice il Presidente Sassoli non è un discorso per contabili o per commercialisti ma è un discorso per i cittadini, cioè dove verranno spesi i soldi del bilancio europeo 2021-2027, quindi se ci saranno soldi per la politica agricola comune, per l'Erasmus, per l'innovazione, per la ricerca, per la sicurezza, per la lotta al cambiamento climatico, per la prevenzione delle calamità naturali, eccetera, eccetera. Cose veramente concrete che riguardano la vita dei cittadini. Certo. Senti Maurizio, tu hai parlato di economia, di tante altre cose. A me capita spesso di essere in contatto con aziende, aziende che mi dicono ma in Europa si parla dei bandi, bandi economici, ma come si fa a entrare nei bandi europei? Perché se ne sente parlare, io onestamente non ho mai sentito nessuno poiché poi è riuscito a entrare in questa ottica dei bandi. Ma in realtà bisogna un po' conoscere, allora facciamo un paio di premesse. Una premessa, molti dei fondi europei sono poi effettivamente stanziati dalle regioni e dai comuni che implementano i programmi europei. Quindi in realtà quando le imprese vanno a chiedere soldi alla regione, al comune, molto spesso capita che utilizzino fondi europei, magari senza neanche saperlo. In secondo luogo, c'è gente che utilizza il bandi. Ovviamente bisogna conoscere. Per esempio, una di queste storie di donne che racconteremo il 9 maggio, il 9 marzo, scusate, è la storia di questa Anna Fiscale, una imprenditrice giovane veronese che ha creato un progetto che si chiama Progetto Quid, per cui la sua impresa impiega oltre 70 donne, fra vittime di tratta, donne presidente dei campi rom, ex prostitute, donne con disagio sociale, le impiega riciclando i tessuti scartati dall'industria dell'alta moda per produrre dei nuovi vestiti. Allora, questa è una storia che è possibile solo grazie ai fondi europei. Cioè, lei ha avuto accesso a un contributo europeo. Come fare? Allora, intanto bisogna... non è una cosa che oggi io dico, utilizzo i fondi europei, domani ai fondi. Bisogna un attimo informarsi, quindi bisogna anche avere degli esperti in europrogettazione, in fondi europei, nelle imprese stesse. E poi, o avvalersi di consulenti, insomma, e poi comunque un primo punto di partenza possono essere proprio i centri Europe Direct. Quindi ci si può rivolgere al centro Europe Direct della propria città e dire come faccio se io ho un'impresa, se voglio accendere ai fondi europei, qual è il primo passo che posso fare? Gli Europe Direct sono lì per questo e possono supportare. La Brexit è avvenuta. I deputati inglesi sono usciti. Quali sono i cambiamenti che avverranno al Parlamento Europeo? Allora, la Brexit non è avvenuta. La Brexit è iniziata, ma deve ancora finire. Cioè, quello che è avvenuto è l'inizio della Brexit. Quindi quello che è successo il primo febbraio è che è entrato in vigore l'accordo di ritiro del Regno Unito dall'Unione Europea. Adesso però bisogna negoziare tutto quello che riguarda le relazioni future fra Regno Unito e Unione Europea. Allora, non è vero, come dicono alcuni, che dal primo febbraio non è cambiato niente. Ma non è neanche vero che è cambiato tutto. Dal primo febbraio si è iniziato un processo che terminerà, secondo il Regno Unito, poi vedremo se effettivamente riusciranno, il 31 dicembre 2021, con la chiusura dei negoziati sulle relazioni future. Che cosa significa questo? È tutto da vedere. Perché bisogna capire se si riuscirà. Non è mai successo che i negoziati così complessi sulle relazioni future fra due paesi siano stati negoziati in un anno, in meno di un anno, in dieci mesi. Cioè l'accordo UE-Canada, per esempio, ci ha voluto cinque anni. Il TTIP, l'accordo fra UE-Stati Uniti, era stato negoziato durante la presidenza Obama ed è stato accantonato. Quindi quali saranno le relazioni future? Cosa effettivamente cambierà? È tutto da vedere. Certo, il Parlamento europeo vuole assolutamente come priorità tutelare i cittadini europei nel Regno Unito e i cittadini del Regno Unito nella Unione Europea. Ma vuole che ci sia parità di trattamento, che il Regno Unito si impegni a rispettare gli standard, per esempio, per quanto riguarda il lavoro, per quanto riguarda i diritti umani, per quanto riguarda l'ambiente, dell'Unione Europea. Perché se non rispetta questi standard, i negoziati saranno molto difficili. E il rischio è di avere due paesi che diventino completamente paesi terzi. Quindi, per capire, dazzi sui prodotti, sospensione dell'Erasmus nel Regno Unito e tante altre cose veramente molto gravi che nessuno si augura che succedano. Quello che è cambiato adesso è sicuramente per il Parlamento europeo, che abbiamo i deputati inglesi che hanno abbandonato. Quindi, 751 deputati erano prima, ora sono 705. I 73 eurodeputati inglesi hanno abbandonato, ma la matematica, voi mi insegnate, 751-705 non fa 73, ma fa 45. Perché? Perché alcuni seggi sono stati lasciati liberi per futuri allargamenti dell'Unione Europea e altri sono stati ripartiti. L'Italia, per esempio, ha preso 3 eurodeputati in più. È passato da 73 a 76. Uno di questi deputati, Berlato, è un deputato nel nord-est, di cui quindi anche noi di Milano ci occuperemo. Senti, però ti faccio sorridere, perché a me qualche giorno fa è arrivata la conferma per il 4, per l'utilizzo dello studio Voxbox, come tu sai. Di solito mi arrivava la conferma in inglese, mi è arrivata la conferma in lingua francese. Quindi qualcosa è cambiato anche a quel livello lì. Ma io credo sia stato un caso, probabilmente dipende dal collega che ha risposto. Però da quel punto di vista non cambia. Tra l'altro anche i funzionari britannici delle istituzioni restano funzionari delle istituzioni, quindi continuano a lavorare nelle istituzioni, non cambia veramente. No, ripeto, non è vero che non è cambiato niente, non è vero che è cambiato tutto. È vero che è iniziato un processo dove si andrà in questo processo e tutto da vedere. Senti, non parliamo più di politica, due domande così, giusto? Perché almeno la gente impara anche a conoscerti in televisione, no? Perché magari non sanno che il direttore del Parlamento Europeo, degli uffici di Milano, chissà che personaggio cattivo, brutto, che parla solo di politica, invece non è così. Hai seguito Sanremo? Ma un po', diciamo che non ho visto nessuna serata in maniera integrale, però un po' l'ho seguito sia sui social sia ascoltando un po' le canzoni. Ha vinto la persona giusta secondo te? Cioè una canzone che ti poteva piacere? Ma intanto voglio dire, faccio i complimenti a chi ha vinto Sanremo. E poi sinceramente non importa se piace a me o no, ma importa che non sempre poi chi ha vinto Sanremo è quello che ha avuto più successo dopo. Vedremo. Intanto io spero che andrà all'Eurovision, ecco, perché ricordiamo che il vincitore di Sanremo poi va all'Eurovision, quindi insomma lo aspettiamo all'Eurovision. Sanremo è sempre un momento molto interessante, per l'Italia soprattutto. 62-63% di ascolti ha fatto, quindi voglio dire, è sicuramente un fenomeno che ha unito tante persone. Ma fra l'altro non solo quello, leggevo che addirittura si è invertita la tendenza, cioè è più ascoltato quasi dalla fascia 15-34 anni che, cioè lo share è maggiore nella fascia 15-34 che nel totale della popolazione. Quindi vuol dire che questo prendere un po' gruppi e cantanti dai vari talent show, i vari, non so adesso mi viene da Chille, Lauro, Lamborghini, insomma questi vari fenomeni che ci sono stati, hanno attratto verso Sanremo un pubblico che normalmente non è il classico pubblico sanremese. Certo, va bene. Comunque a me sono piaciute quasi tutte le canzoni, la mia preferita, io mi sbilancio perché a differenza di te che stai sopra le righe, a me Raffael Gualazzi mi è piaciuto, quindi voglio dire, è arrivato dodicesimo. Guarda, io Raffael Gualazzi fra l'altro ho un legame particolare, non personale con lui, ma lui è di Urbino, io ho fatto la scuola di giornalismo Urbino e mi ricordo che l'ho sentito in concerto quando era ancora diciamo un mezzo sconosciuto, quindi ho una simpatia particolare per Gualazzi. Io l'ho sentito a un concerto in piano, pianoforte, è stato strepitoso e da lì ho detto questo chi è troppo bravo, comunque la canzone è piaciuta. Vuoi dirmi qualcosa in merito al coronavirus? Perché tutti ormai o si parla di calcio o si parla di coronavirus. Sanremo è passato, quindi abbiamo trattato anche questa cosa qua. Allora sul calcio dico, stasera qua a Milano c'è un appuntamento importante andata delle semifinali di Coppa Italia e io non nascondo, non ho mai nascosto, sei giuventino, tu non ho sentito. E quindi insomma, fra l'altro non potrò per motivi personali seguire la partita, se no sarei andato probabilmente anche a San Siro. speriamo bene, ecco, speriamo bene e speriamo che Ibra non ci faccia qualche scherzetto. E sul coronavirus? No, quello che posso dire è anche su questo. Cioè, io la rigiro in chiave europea. Cioè, si è detto che l'Unione Europea non ha fatto niente per, o ha fatto poco. In realtà l'Unione Europea ha fatto quello che può fare, cioè le sue competenze sono di un certo tipo e infatti ha mandato degli aiuti in Cina, ha stanziato dei fondi, ha mandato delle mascherine, ha incoraggiato gli stati membri a una risposta comune, ha svolto un ruolo di coordinamento fondamentale in questa situazione. Che ricordo, io la chiamo situazione, non la chiamo neanche emergenza, perché se in Cina può essere un'emergenza, in Europa abbiamo, anche per la risposta europea che c'è stata, anche per il coordinamento che c'è stato fra gli stati membri, un numero di casi che è veramente, cioè vuol dire, l'influenza, il tetano, che è una malattia per cui si è vaccinati, cioè fa molti, molti più danni ogni anno, ma mille volte di più rispetto al coronavirus. Non vuol dire che bisogna sottovalutarla, è una situazione seria, è una situazione che in Cina sta creando problemi molto seri, è una situazione che se non affrontata correttamente può rischiare di degenerare, però è una situazione in cui l'Unione Europea, secondo me, ha dimostrato che per le competenze che ha, ha agito. Poi, se gli si vogliono dare più competenze, è una cosa, a mio personalissimo parere, qui non parlo come responsabile dell'ufficio, è una cosa giusta, ma non si può accusare l'Unione Europea di non fare e poi non darle le competenze per fare. Questo in ambito sanitario come in altri ambiti. Certo. Senti Maurizio, io ti ringrazio per averci accolto qua nel tuo ufficio, nella vostra sede di Milano. Grazie, piacere. Adesso la gente avrà capito che esiste veramente questa sede, questi uffici a Milano. E ricordiamo che i nostri contatti sono pubblici, quindi chi ci vuole chiamare, chi ha delle proposte, insomma, noi siamo aperti. Anche lì, non ci chiedete l'impossibile, cioè se ci chiedete una cosa che noi non possiamo fare o su cui noi non abbiamo competenza, cioè non siamo la panacea di tutti i mali, perché a volte ci arrivano richieste di ogni tipo. Il Parlamento Europeo è il Parlamento Europeo, ha il potere che ha, che è cresciuto, ma insomma non può fare tutto. Però insomma noi siamo aperti al confronto, siamo disponibili. Io la scorsa settimana ero a Schio a parlare a 200 studenti delle scuole e ho lasciato i miei recapiti, cioè il mio numero di telefono, la mia mail, per capire siamo disponibili, siamo assolutamente trasparenti, assolutamente aperti. Quindi ecco, vi ringrazio veramente per l'attenzione che ci avete dato. No, ci mancherebbe, è un piacere essere qua con voi, da voi. Allora, intanto ringrazio Maurizio Molinari, il direttore e responsabile dell'ufficio di Milano del Parlamento Europeo. Ringrazio e saluto tutti i nostri amici che ci stanno seguendo in tv e sul web. Sarà la prossima, al prossimo giro, noi da Maurizio quando ci dici di venire a dire qualcosa, veniamo volentieri con le nostre telecamere a riprendere e a fare tutto quello che c'è da fare. Quando volete, grazie. Grazie mille, buona giornata, buon lavoro. Grazie mille, buona giornata, buona giornata. Grazie mille, buona giornata.